infatti non si vede niente ehi, un'idea proprio geniale Henry volare sopra le nuvole esatto, sopra le nuvole è impossibile che piova ti mettimi subito nello zainetto non sono una bambina portata dalla cicogna Betty, a volte ti comporti come una principessa ehi, ma è proprio un palazzo certo, vine a vedere Vipo